Prima di cominciare il video vi volevo fare vedere una parte della partita di Longobardi, una parte molto importante che ho sbagliato un po' nelle analisi. In pratica da questo punto, ecco adesso vediamo tutta la partita, il bianco che si mette in questa posizione, il nero che attacca, adesso il nero che ha una posizione vantaggiosa, già il nero che crea questa struttura per dare una specie di tiro. Cambio molto forte da qui, qui era buona la 6.10 però questa crea un sacco di trappole. Ecco arrivati a questo punto abbiamo analizzato che se il bianco fa 22.18, ecco vabbè la mossa migliore per il nero è questa, 14.18 poi ovviamente tocca al bianco che deve salvarsi. Però mettiamo caso, ecco questa. L'idea di Longobardi è che se si cattura con la 31, ecco io nel video scorso sbagliando ho messo 14.18 ma in realtà qua si fanno le due così come mi è stato suggerito in un commento e anche da Longobardi stesso che mi ha detto no era questa la mia idea in realtà. C'è questo, più le tre. Giusto ve lo volevo far vedere perché i più forti sicuramente nel video scorso si sono accorti però diciamo che coloro che hanno appena iniziato ancora non hanno una visuale così forte. Sicuramente ecco che è meglio vedere una cosa del genere ve lo faccio rivedere più lentamente ecco se il bianco attacca il nero fa questo specie di sacrificio e ok la mossa giusta per il bianco è catturare da questo lato e con un pezzo in più. Diciamo che questa è una posizione pari perché il nero poi può centralizzare la dama molto prima del bianco però se si cattura con la 31 qua c'è. Come detto prima con l'obbligo di presa non si può catturare un pezzo ma se ne deve catturare per forza due vincendo la partita anche perché qui se si avanza si avanza ecco c'è il tiro e si guadagnerebbe un altro pezzo quindi proprio anche questa linea è occupata. Bene dopo questa breve introduzione passiamo al vero video. Salve a tutti oggi vi commenterò l'ultimo turno dell'ottantasettesimo assoluto e in questo video vi mostrerò la sfida tra Davide Gemma e Mirko De Grandis. L'apertura alla numero 49 inizia con 21 18 11 15 e 23 20 qui il nero chiude con 6 11 qua viene fatta 26 2 6 per il nero 28 23 per il bianco che vuole chiudere da questo lato però il nero già subito cambia tutto per non farsi bloccare ora viene fatta 11 15 fin qui tutto nella teoria però il bianco cambia con 25 21 la mossa teorica da qua era 26 21 però il bianco fa 25 21 e la partita comunque continua in parità adesso viene fatta al nero 7 11 che sarebbe stata teorica con 26 21 e con 25 21 è sempre una mossa buona il bianco gioca 21 17 qui viene fatto al nero 10 13 con questo cambio e raggiungiamo questa posizione che ho visto che anche nelle altre partite gli altri giocatori hanno giocato questa variante e quindi anche se non c'è scritta nel libro probabilmente questa è diventata teorica il fatto è che il libro che abbiamo in questo momento il libro di Marcello Gasparetti la dama italiana dalla A alla Z è un libro che mostra le partite ma giocate fino al 2012 adesso siamo al 2024 cioè probabilmente loro hanno un casino ma un casino di partite teoriche rispetto a quelle che si conoscono in quel libro quindi questa secondo me non è neanche una fuori teoria però noi ci affidiamo al libro che abbiamo viene fatta 1 5 23 19 per attaccare verso il biscacco 5 10 cambio qua il bianco fa una leggera imprecisione che regala del vantaggio al nero fa 30 26 da qua si poteva fare 22 18 perché qui il pezzo non è facilmente attaccabile se il nero attacca qua c'è un giochetto con 18 13 il bianco se ne va qui il nero non può fare il cambio altrimenti qua il bianco fa dama da questo punto e con tutti questi pezzi esposti il nero non si salva quindi dovrebbe farlo perfino andare a dama quindi una posizione molto ma molto vantaggiosa per il bianco comunque viene fatta 30 26 qui dal nero viene trovata la mossa migliore 11 14 con l'idea di dare il cambio alla 18 e mettere un pezzo da questo punto in bianco ovviamente io lo impedisce con 26 21 quindi il nero non può fare 14 18 come vediamo e gioca 4 7 fin qui la posizione è pari anche se il nero ha un leggero vantaggio qui la mossa migliore per il bianco sarebbe stata 22 18 il nero avrebbe dovuto proteggere con 6 11 poi 27 23 qui non si può attaccare con 15 19 perché il bianco fa 23 20 e qui non si scappa qui da un pezzo si guadagna un pezzo per il bianco e si vince quindi il nero avrebbe dovuto fare 15 20 29 25 cambio cambio qui non si può muovere nulla si deve dare per forza il cambio con 7 12 e il bianco si liberava la posizione con 22 19 poi con 18 13 dava questo diretto i pezzi sono pari e la posizione è pari poteva pareggiare giusto in questo modo però il bianco gioca 27 23 ecco questa purtroppo è un errore che permette al nero di vincere la partita con un paio di mosse e purtroppo qui probabilmente il bianco aveva come idea bene ti muovo questa così se mi attacchi ti attacco da questo punto tu ne prendi uno ma io te ne prendo due però non ha fatto i conti con 10 13 che viene subito giocata dal nero cambio adesso il nero con questo cambio minaccia di fare il tiro facciamo una mossa a caso qua c'è il tiro e ovviamente il bianco deve evitarlo assolutamente con 21 17 ecco il nero adesso fa 13 18 preparandosi con questi due pezzi ad attaccare la 23 qui per esempio non è che si può andare a dama a cuor leggero qua ci sarebbe 18 22 e questa chi la salva più infatti facciamo un'altra mossa ecco che la 23 non si può difendere quindi il bianco dopo questo cambio gioca 29 26 la 29 26 è una mossa stronza veramente ma una mossa veramente stronza cioè per esempio io da qui da questa posizione proprio non so voi ma io avrei giocato 18 21 no avrei detto va bene lui va 26 22 io vado qua non scappa più o meno avrebbe mosso questo e in qualche modo avrei provato a fare qualcosa con la dama ma no 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 niente di tutto ciò dopo 18 21 ci sarebbe stata 31 27 presa e 23 20 presa e il bianco pareggia incredibile la mossa corretta da questa posizione è 15 scusate da questa posizione 15 20 ragazzi proprio 15 20 perché questo pezzo non può scappare questo non è che uno può dire se attacco a questo punto la 31 può mangiarne due no perché adesso tocca al bianco e il bianco che può fare qui e qui o copre o fa un'altra mossa oppure se gioca la 13 17 ecco 1 1 e il nero guadagna il pezzo tranquillamente perché la doppia cattura viene coperta dalla 13 vedete proprio la 13 va a coprire e quindi il bianco gioca 31 27 e ora il nero con facilità dice 18 21 e la partita finisce perché finisce beh questo è facile da vedere dopo 26 22 21 26 troppi pezzi esposti e la damatura abbastanza anticipata dal nero super fast che va a prendersi sicuramente un pezzo il nero qui ha una posizione completamente vinta ebbene per questo video è tutto vi ringrazio per la visione vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace grazie a tutti e alla prossima